Richiesta di convocare il Consiglio Comunale in via d'urgenza da parte dei consiglieri di opposizione Baldi, Speranza, Mirra, Bovi, Cairone e Motta. L'istanza si basa sulla necessità di discutere la mozione presentata dal consigliere Baldi in merito all'annullamento della delibera di giunta che ha sancito il mancato acquisto dei casoni d'oria e il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della consulta comunale per l'ambiente promossa dal consigliere Mirra. Grazie